piccolina, dame un bacino dame un bacino chi è? Nannarella, la madonna la madonna, la madonna la madonna, la madonna la sciaiole la sciaiole la sciaiole ad esempio ah i case anche questo è il colore del napoli ma tu hai visto il telefono in mezzo? tu dialetto? è buono o due ma be', mi devi tenere escizzi parole basta una madonna a quella parisca non lo dice half a madonna che l'abbai portato tu così? e' un po' di più la città è un po' di più esattamente di un po' di più mananarello? un po' di più ma dove c'è la mananarello? mangiare mananarello? mangiare mananarello? mangiare mananarello? mananarello? vieni a prendere i bottigliati ahahah che li ha dominato e' una mani con questa cosa ne sta andonna ma io ne sento ora c'è la mancia non c'è lui guarda un po' di più un po' di più un po' di più un po' un po' di più un po' di più una bocca chiediamo come provano qui stanno salendo stiamo salendo adesso devo decidere a si to la narella i gammali il sulto è bianco vedete che catevi cilato